Eccoci con Piero Bitetti, candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in Comune, il candidato presidente è Michele Emiliano, candidato della coalizione di centro-sinistra di cui Italia in Comune fa parte. Vari i temi che stiamo affrontando, temi di competenza regionale, ebbene ora dobbiamo parlare necessariamente di sanità, sanità con riferimento all'area di Taranto, un territorio sofferente per la notissima questione ambientale che deve essere adeguatamente supportato e sostenuto con una offerta sanitaria d'eccellenza. Innanzitutto, direttore, le voglio dire che la sanità è il tema probabilmente più importante di una regione. Circa l'80% del bilancio regionale ha obiettivi legati alla sanità. Bene, Taranto da questo punto di vista è trascurata. Noi pensiamo che Taranto e la sua provincia hanno gli stessi diritti di essere curati degli altri cittadini pugliesi. Quindi innanzitutto va recuperato il gap che c'è nel rapporto tra popolazione e personale sanitario. Quindi parlo di medici, infermieri, assistenti e quant'altro. Questo gap va recuperato rispetto alla percentuale che vede favorita Lecce, la provincia di Lecce, rispetto alla provincia di Taranto. E poi abbiamo il tema dei temi. L'ospedale San Cataldo, il nuovo erigendo ospedale che vedrà tra pochi giorni partire il cantiere. Noi saremo particolarmente attenti e severi affinché questa infrastruttura che consentirà di riordinare le discipline sanitarie sarà realizzata bene e nei tempi previsti dal bando di gara. Saremo particolarmente attenti perché, ripeto, la sanità ha un'attenzione focale, primaria, importante. Dovranno essere contenute tutte le discipline. Non ammettiamo, se non in casi particolari, reparti SPOC, per intenderci quelli che dipendono da Bari. Noi non vogliamo essere assolutamente subalterni a Bari. La questione relativa alla riorganizzazione delle discipline sanitarie passa necessariamente dalle assunzioni di personale sanitario che probabilmente meritano prima un approfondimento normativo perché molto spesso i vincitori di concorso rischiano di non essere assunti perché abbiamo un ginepraio di norme tra coloro che hanno fatto periodi di prova, tirocini, 36 mesi e quant'altro. Quindi è importante partire dalla normativa vigente che dovrà essere resa chiara e snella e poi puntare a quella che è l'assunzione del personale sanitario che dovrà essere pronto prima dell'apertura dell'ospedale. Non abbiamo il tempo di assumere successivamente. Quindi la organizzazione, la pianificazione, la programmazione deve venire ante. Su questo, direttore, io mi sento di dire che sulla sanità si apre un confronto. Si apre un confronto importante con il resto della regione. Abbiamo medici qualificati, altri li possiamo ospitare affinché il cittadino della provincia ionica si senta tutelato, si senta garantito. Ricordo a me stesso che l'Italia è uno stato di diretto e fino a prova contraria è un nostro diritto essere curati. Quindi eviteremo che quella struttura possa rappresentare una cattedrale nel deserto perché vogliamo garantire ai nostri concittadini diagnostica, prevenzione, cura, riabilitazione. Grazie a tutti.